Un'altra delle belle iniziative che come istituto comprensivo Nini Cassarano portiamo avanti grazie al contributo sia dell'ente locale, dell'assessore campione e anche del Rotary Club Costa Gaia che anche quest'anno come negli anni precedenti si è dimostrato molto sensibile rispetto ai problemi ambientali e della coltivazione anche quest'anno abbiamo rifatto l'orto biologico, stamattina siamo qui invece per la coltivazione delle piante dell'olivo facciamo vedere ai ragazzi come avviene la coltivazione e la piantumazione di questi alberi e questo ci porterà nel futuro anche a poter visionare ai ragazzi la raccolta e la produzione dell'olio che è un bene che per quanto riguarda il nostro territorio è particolarmente significativo ed importante Ma noi contiamo molto sui ragazzi del Rotary e dell'Interact, sono il nostro flore all'occhiello per cui diamo sempre precedenza a questi giovani e li sosteniamo sempre è un'iniziativa bellissima perché i ragazzi cominciano a capire cosa vuol dire coltivare il terreno i tempi, quando raccoglierli e quant'altro